A pochi giorni dal devastante rogo, la città della scienza di Napoli riparte dagli impegni della politica e delle istituzioni unite per rilanciare il polo tecnologico campano. In campo c'è anche il governo, rappresentato a Napoli dal ministro dell'istruzione Francesco Profumo. Abbiamo una task force tra i diversi ministeri e da parte nostra c'è la massima attenzione e una partecipazione continua anche in questa fase progettuale di avvio. Il presidente della regione campagna Stefano Caldoro fa il punto della situazione senza nascondersi le difficoltà. Troviamo le risorse, non è facile, abbiamo fatto un lungo lavoro, tutti insieme per trovare tra governo, regione, enti locali risorse necessarie. I primi segnali sono segnali positivi, nel senso che si può già da subito contare su delle cifre sicure. La tutela dei lavoratori è la prima cosa che abbiamo fatto, per la fase ponte, accompagnamento al reddito, sostegno al reddito. Tutto quello che bisogna fare bisogna farlo subito, però c'è la grande solidarietà. Sulla necessità di fare in fretta concorda anche il presidente del CNR, Luigi Nicolais. Qualunque intervento noi dobbiamo fare, dobbiamo farlo subito per dare a tutti, alla cittadinanza, ai bambini, ai giovani che frequentavano le città della scienza, al paese intero, la capacità di dimostrare che sappiamo reagire.